Ultimamente mi ritrovo sempre a leggere dei libri di testo, saggi, cose per cui io, insomma, libri che devo studiare e sto leggendo sempre meno libri invece di narrativa o dei classici o libri usciti negli ultimi anni. Allora ho pensato di cominciare a fare una serie di video per coniugare sia questa mia esigenza, quindi quella di leggere dei libri, che l'esigenza che mi manifestano molte volte le persone che vengono a fare i corsi di edizione fonetica da me ed è quella di avere dei testi dove ci sia una trascrizione fonetica, quindi dove si leggono già le vocali nella trascrizione corretta della dizione, come anche le S e le Z, con anche l'audio che possa essere sentito per fare un confronto fra quello che c'è scritto e quello che si può sentire per poterlo poi dopo riprodurre il più possibile fedelmente. Oggi comincio con questo racconto di Salgari, il vampiro della foresta e quindi adesso vi leggerò parte di questo racconto. Il racconto è diviso in due puntate, questa è la prossima che uscirà martedì prossimo. Buon ascolto! Le foreste dell'America meridionale, sotto certi aspetti, sono ben più pericolose di quelle africane, quantunque anche queste siano popolate da un gran numero di fiere, avide specialmente di carne umana. L'uomo che le percorre ad ogni istante si trova in procinto di lasciarvi la vita, perché non le sole belve lo insidiano, ma ben anche certi volatili pericolosissimi, perfino anche certe piante, sotto la cui ombra non può sdraiarsi senza correre la triste sorte d'addormentarsi per sempre. Nel 1886, nell'Uruguay, vi era stato un certo risveglio fra i numerosi coloni sbarcati dall'Europa, essendosi sparsa la voce che si erano scoperti nelle folte foreste bagnate del Tocantin dei filoni d'oro, numerosi immigranti avevano lasciato le borgate per cercare una più rapida fortuna e tornarsene in patria poi con la centura riboccante di pepite gialle. Fra i primi a slanciarsi fra quelle foreste vergini, forse mai prima attraversate da alcune europeo, vi erano i fratelli Puraco, due bravi giovani di poco più di 25 anni, pieni di audacia e di coraggio, che avevano lasciato non senza rimpianti la loro Sicilia per cercare fortuna nel nuovo mondo. Entrambi avevano già lavorato nelle miniere d'argento della Plata ed essendo pratici negli scavi, contavano di arricchire rapidamente per tornarsene poi altrettanto rapidamente nella natia isola. Provvedutisi di un mulo da armi e di provviste per un mese, Giovanni e Marco, pieni di speranze, lasciavano Santa Rosa del Dilen risalendo la riva destra dell'Uruguay. Dopo quindici giorni di marcia faticosissima, giungevano, senza aver fatto cattivi incontri, sul margine di quelle immense foreste che, si diceva, nascondessero loro. Era un vero mare di vegetali, alberi immensi che chinavano uno accanto all'altro, collegati da immense liane e da piante rampicanti, in mezzo alle quali stavano stormi di pappagalli, verdi e rossi e si agitavano facendo mille smorfie delle piccole scimmie magrissime con le braccia lunghe quasi quanto le gambe e che perciò vengono chiamate scimmie ragno. I due emigranti, nel trovarsi dinnanzi a quella selva gigantesca, si erano fermati in preda ad un'impressione profonda. Si sentivano spaventati nel trovarsi così soli, a tanta distanza dal più piccolo centro abitato, e si stupivano di aver avuto tanto coraggio da spingersi fino a quel luogo. La speranza però di trovare in breve qualche ricchissimo filone d'oro rese loro l'audacia e si inoltrarono nella cupa foresta per trovare un luogo acconcio dove costruire una capanna ed accamparsi. Dopo lungo e faticoso cammino attraverso quei folti vegetali e da radici immense che erano costretti a recidere per poter fare avanzare il mulo, giungevano in una radura circondata da superbi alberi di cocco e da banani già carichi di frutta. Fermiamoci qui, disse Marco. Mi sembra che questo luogo sia propizio e forse questo suolo nasconde l'oro che cerchiamo. Un silenzio profondo regnava in quella radura, la quale pareva che fosse sfuggita da tutti gli animali e dai volatili della foresta. Prima cura dei minatori fu quella di costruirsi un ricovero, cosa facilissima avendo materiali in abbondanza, quindi di dissodare un pezzo di terra per seminare del grano e del mais per non esporsi al pericolo di morire di fame. Avevano appena terminato quel lavoro e si preparavano a fare dei saggi del terreno per accertarsi se vi erano in quel luogo filoni d'oro quando videro comparire sul margine della foresta un indiano di statura gigantesca col viso dipinto in rosso e nero, le sopracciglia in azzurro e le labbra traforate per modo da reggere due zanne di cinghiale. Nella destra teneva una specie di canna lunga circa due metri e nella sinistra un fascio di frecce. Vedendo quel brutto selvaggio Marco e Giovanni avevano interrotto i loro lavori per afferrare i loro fucili perché in quella specie di canna avevano riconosciuto una delle più terribili armi degli indiani dell'America del Sud e che, soffiandovi dentro, lanciano frecce avvelenate nel succo di curaro. Che cosa fanno qui gli uomini bianchi? chiese l'indiano con accento terribile. Ignorano essi che questo è il territorio degli uomini rossi? Chi siete voi? chiese Marco che aveva ripreso coraggio e che comprendeva benissimo la lingua spagnola parlata dal selvaggio. Io sono il vampiro della foresta e se volessi potrei farvi dissanguare questa notte. Allora, signor vampiro, disse Marco, che temeva gli indiani meno di suo fratello, è pregato di andarsene e di lasciarci lavorare tranquilli se non vuole provare le nostre armi. Voi non credete a quanto vi ho detto? Riprese l'indiano dardeggiando su di loro uno sguardo feroce. Alle tue smargiazzate non credo affatto. L'indiano mandò un fischio e tosto dal folto d'un albero i due fratelli videro con loro stupore uscire un pipistrello enorme dalle ali pelose e rossastre e che andò ad appollaiarsi tranquillamente su una spalla del selvaggio. Ecco il volatile che dissanguerà gli uomini bianchi se essi non se ne andranno da queste terre che appartengono ai Patalos, gridò l'indiano. Ho detto! Poi, senza attendere alcuna risposta, scomparve nella foresta senza nemmeno degnarsi di volgersi indietro. Marco e Giovanni erano rimasti così sorpresi dall'improvviso arrivo di quello strano volatile da non pensare nemmeno a far fuoco contro l'indiano. Fratello, disse Marco che era il più giovane, che cosa ne dici di questa avventura? Quello indiano ha voluto spaventarci, rispose Giovanni. Che razza di animale era quel pipistrello? Un vampiro addomesticato. Pericoloso? Sì, Marco, disse Giovanni, il quale era diventato meditabondo. Quei pipistrelli che sono abbastanza numerosi in queste regioni, quando vedono un uomo o un animale addormentato, gli piombano addosso, aprono nella pelle delicatamente un forellino e per mezzo di una piccola tromba succhiano il sangue. E uccidono? No, ma indeboliscono e continuando parecchie notti possono anche ammazzare l'uomo o l'animale scelto per loro vittima. Che quello indiano ci abbia seriamente minacciati? Chiese Marco, spaventato. Lasciamo l'indiano e il suo vampiro e occupiamoci di cercare la fortuna che forse sta sotto i nostri piedi, rispose Giovanni. Ripresero i loro lavori senza più pensare alla minaccia del terribile vampiro dell'Uruguay. Le loro ricerche ebbero subito un buon esito, dopo alcuni scavi trovarono un filone d'oro che prometteva una rapida fortuna e che veniva a confermare pienamente le voci corse circa le ricchezze favolose nascoste sotto il suolo di quelle vergini foreste. Avendo trovato a breve distanza un piccolo corso d'acqua, necessario per la lavatura delle sabbie aurifere, i due fratelli ansiosi di conoscere la ricchezza di quella vena si misero allacremente all'opera. La prima produzione fu semplicemente favolosa perché la sera i due minatori poterono valutare l'oro estratto a circa mezzo chilogrammo, equivalente a 1500 lire. La fortuna era ormai assicurata, se il filone non si esauriva in pochi mesi i due minatori avrebbero potuto realizzare una somma ingente. Torneremo nella nostra Sicilia ricchi come cresi, aveva detto Giovanni, guardando avidamente la polvere d'oro raccolta nel piatto di stagno e che mandava bagliori fulvi. Sì, se non verranno a disturbarci, aveva soggiunto Marco. Chi vuoi che venga a contenderci questa fortuna? Non vi è un uomo bianco a 40 miglia all'ingiro. E l'indiano? Se ne sarà andato all'inferno, ha voluto farci paura e nulla più. Quella sicurezza doveva avere una ben pronta smentita. Grazie a tutti.